Sono qua a presentarvi il lavoro, questa opera divisa in sette brani, sette canalizzazioni differenti, potete leggere tutto come è stato creato e tutto quanto nelle diverse sezioni del sito e trovate anche tutte le tracce per intero, corredate da una piccola descrizione diciamo delle sensazioni e dei luoghi che andiamo ad esplorare uno per uno. Ecco queste descrizioni mi sono arrivate, mi sono state consigliate diciamo dette dai miei personali maestri e le ho volute mettere così come erano. Tutto qua, spero che vi piaccia il lavoro, che vi piaccia l'intento che vi possa interessare anche in futuro in quanto sto preparando altre stanze, in altri luoghi. Leggete, ascoltate e se vi è piaciuto ditemelo.